Buongiorno, buongiorno! Torniamo al San Genesio dopo tre mesi senza il megatower. Vediamo se siamo ancora capaci. Sentieri soft oggi, per riprendere un po' la confidenza col mezzo. Qui è caduta un po' di roba. La metto bastardo! Per riprendere un po' di roba. Tagliere il gas! Eh, la bici funziona ancora. Il pilota un po' meno. Coscerino! Bello qui! Oh, 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 oh! Ma che copertoni c'ha stamici qua? Oh, 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 oh! Ho paura il grip! Grip da paura! Nooo! 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 ... Nooo! Noo! Nooo! 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 riesco a capire se non riesce a non andare in temperatura o c'è la differenza di temperatura tra il disco e la pastiglia c'è la pastiglia Oh no, che riesco.